Allora, Claudia, allora, Claudia, mi dispiace che non ci sta Ivan, facciamo pure Ivan immaginare. Facciamo venire qualcuno. Ivan, no, facciamo cosa sta a casa. Ivan, ti dispiace? No, tutto bene, sono. Allora, questa qui è una canzone natalizia, è proprio la canzone di Natale che io ho voluto dedicare ad un grande protagonista di questo ultimo scorcio d'anno. Secondo me, tra l'altro ho saputo, perché me l'ha detto lui, che ci guarda ogni tanto, perché sempre, orressamente, puri non vi guardassi, però lui ogni tanto ci guarda, che è mister Carlo Ancelotti, l'ho sentito, l'ho sentito il tempo fa, lui mi disse guarda, qualche volta vi guardo e faccio di schife. E quindi io... Proprio così ha detto? Non è vero, non è vero, ha detto, c'è tu schifo. E quindi io vorrei dedicare questa canzone a te, Mr. Carlo, perché sei stato un grande protagonista e vi volevo avvalere della collaborazione di questi dilettanti. Sei pronti? Allora, io mi sono permesso, io insieme al mio ispiratore, Raffaele Marangio Dettolello, Tarzano Napoli, Jing Bell, quella famosa canzone Jing Bell che hanno inventato proprio a Cardito, così. Io mi sono permesso di dedicarla a te, caro Carlo, Jing Bell stasera per noi è Carletta Bell. La sapete voi? Vi prego, collaborazione anche gli illustri professionisti, i direttori. Cosa devono fare? Ritornelli? Lo so, ilarità, codialità e... Bravo, Mario, pure risate inutili che non servono a noi. Noi non amiamo la sincerità, non è richiesta. Siamo pronti? Carletta è be', carletta è be', carletta è troppo be', a quando si è venuto i due banchi non esiste giù. Carletta è be', carletta è be', carletta è troppo be', hai portato la tua prole che dice male parole, e c'era da tutto il mondo, poi si è venuta di noi, ha visto a Mike Rude e trova a Mario Rui, e ha vinciuto tanta coppa, ha dovuto che arriva mai, carina vita a noi, allenava ai sai. Carletta è be', carletta è be', carletta è troppo be', non da fa' passare sta voglia che si fanno solo un bruci. Carletta è be', carletta è be', carletta è troppo be', ma ho scudette che ha non bene perché c'è sta mazzolene. Tu cacumano tu, sa squadra è una famiglia, però e fai caca sotto quando hai so sopra ci. Si ma sciuta al Liverpool, non stiamo più nei big, però non ce ne fotte, arrangiamo con l'Europa lì. Carletta è be', carletta è be', carletta è be', carletta è tu che sei l'occhio. Sputte un faccio a chi allungo la vale col cuoco. Carletta è be', carletta è be', carletta è troppo be', sta città che un'untalas, pura si fa iugla a un as. Carletta è be', carletta è be', carletta è troppo be', la, 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 la. Carletta è be', carletta è be', carletta è troppo be', Carletta è be', carletta è be', carletta è be', carletta è be' però abbiamo provato 25 secondi loro sono dei strepitosi professionisti che sono riusciti a farla così nonostante me quindi Enzo Marino Bend hanno fatto un miracolo con te un miracolo vero l'ultima cosa scusa aspetta entriamo nel pratico quanti biglietti ti terrò